Cari fratelli e sorelle, iniziamo con la preghiera colletta di questa domenica quarta di quaresima, che è la domenica letare che ci prepara per la Pasqua. Preghiamo. O Dio che per pezzo del tuo figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Per Cristo nostro Signore. Amen. La preghiera ci invita a tante cose. Dice, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Ci mette davanti la Pasqua, ci mette di fronte la Pasqua. La Pasqua è vicina, è questa domenica di letare, di gioia, di rallegrarsi. Ma ci sono motivi per rallegrarsi? Ci sono motivi? Qualcuno dirà, ma ci possiamo rallegrare in questa situazione qua che stiamo vivendo? È possibile rendere grazie al Signore, rendere gloria al Signore dopo tutto ciò che è successo in questo periodo? È difficile, non dico di no, è difficile, ma oggi il Signore ci consola con la parola, ci incoraggia con la parola. Ecco perché abbiamo bisogno di una parola, perché abbiamo bisogno che il Signore ci parli. Ecco, dicevo questo perché ci provo a fare qualche commento sulla parola di questa domenica. Il Vangelo è bellissimo, è la guarigione del cieco nato. La prima lettura parla della lezione di Davide, l'unzione di Davide. La seconda lettura, sapete bene, è la lettera di Fessini, che parla delle tenebre, della luce, di passare di queste tenebre alla luce. Dice, un tempo eravate tenebre, ora siete luce. Importantissimo questo, fratelli, perché a pensare di tutto ciò che succede in questo momento, il Signore cita una parola. E mette al centro la luce, mette al centro questo cieco nato, che siamo noi. Parliamoci chiaro, siamo noi, siamo così ciechi alcuni. Il Signore ha permesso questo periodo per donarci un po' di luce, per uscire dalla nostra cecità. Quanti di noi stiamo scoprendo questa luce in questo tempo? Quanti di noi stiamo passando dalle tenebre alla luce? Quanti di noi non guardiamo più l'apparenza? Se no, abbiamo iniziato a guardare il cuore, forse, come dice la prima lettura. Quanti di noi stiamo sperimentando nella nostra vita che il Signore ci basta? Il Signore ci basta. Non abbiamo bisogno di niente, come dirà il Salmo di questa domenica. Bene, fratelli, però centriamoci in questo Vangelo, il Vangelo della guarigione di un cieco nato. E' interessante perché si parla di questa persona, di questo uomo, un cieco dalla nascita, dirà il Vangelo. Dovete leggere il Vangelo prima, è un po' lungo, perciò non lo leggo, ci provo ad essere breve. Dice il Vangelo che è questo cieco dalla nascita. Ci sono i discepoli, che stanno insieme a Gesù, e li fanno questa domanda, lo mettono alla prova a Gesù, lo interrogano. Dicono, rabbì, chi ha peccato? Lui? Cioè questo cieco? O i suoi genitori? Qual è il motivo di questa cecità? Perché lui è cieco? Qual è il motivo? Chi è il colpevole? Forse qualcuno di noi si sta domandando pure, chi è il colpevole di questa pandemia? Chi è il colpevole di queste, di che tante persone muoiono ogni giorno? Chi è il colpevole? Qual è il motivo? Chi ha peccato? Io mi domandavo anche, sapete che ci sono tanti presbiteri che muoiono, e anche in questo periodo, oggi, ho saputo che è morto un presbitero da Misogentes di Viena. Ma lui era più peccatore di me? No, no. Tutte le persone che sono morti erano più peccatori di noi? No. Loro sono morti per il loro peccato? Qual è la risposta che ci dona Gesù? Cosa sta pensando il Signore per questa generazione? Che vuole il Signore da noi? Qual è il motivo? Perché succedono le cose? Perché sta succedendo tutto questo? Dice Cristo, né Lui ha peccato, né i Suoi genitori, ma è perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. Questo è bellissimo. E questo è il motivo di rallegrarsi, fratelli. E questo è il motivo per rendere grazie al Signore. Che cosa ti vuole dire il Signore in tutto questo periodo? Che cosa vuole da te? E la risposta che possiamo dare al Signore è semplicemente questa. Signore, vogliamo vedere le Tue opere nella nostra vita. E questo è il motivo. E questo è il motivo di stare insieme. E questo è il motivo della quarantena. E questo è il motivo di... I giovani mi dicono che non ce la faccio più a sopportare mio padre, mia madre, eccetera. Non li sopporto proprio, eccetera. Chiediamo al Signore di avere questa luce. Questa è la luce del Vangelo. E perché in Lui siano manifestate le opere di Dio. Sapete che questo verbo, fanerò, che è lo stesso verbo di epifania, fanerò, che non è solo che si manifestino, cioè che siano manifestate, no. non parla proprio della manifestazione, parla anche di rivelare qualcosa, di mettere alla luce, di dare a conoscere, affinché siano visti, che siano pubblici, le opere di Dio. Cristo vuole rivelarsi in questo momento. Ecco perché è un segno. Alcuni biblisti parlano di un segno, del sesto segno, è un segno che fa Gesù. Nel Vangelo di Giovanni ci stanno questi segni, tra il capitolo 2 e il 12, diversi segni. Gesù cammina sulle acque, Gesù trasforma l'acqua in vino, Gesù risuscita Lazzaro, eccetera. Tanti segni che ci aiutano a capire qual è la vera identità di Gesù. Gesù dice perché in Lui siano rivelate le opere di Dio. Gesù vuole rivelarsi in questo momento. Dio vuole manifestarsi in questo momento di difficoltà. Vuole farsi presente. Dobbiamo fare questa teshuva, tornare il nostro cuore verso Dio, tornare la nostra vita, far tornare la nostra vita, recuperare la nostra anima, il nostro essere cristiano, tornare al Signore. Tante persone che pregano in questi giorni. Mi colpisce tantissimo la preghiera del popolo. Tante persone che sentono questo desiderio di entrare in preghiera perché prendono sul serio la sofferenza degli altri, di tanti fratelli che ormai adesso si trovano in una situazione della malattia così terrificante. Sembra che non ci sono speranze. Sembra che non c'era niente da fare. Invece il Signore oggi ci invita a qualcosa di nuovo. Vuole mettere questo fango negli nostri occhi. Lo sta facendo piano piano in questi giorni perché il Signore la sua identità è questa. Lo dice pure il Vangelo. Io sono nel mondo. Io sono nel mondo. la luce. Lui è la luce del mondo. E questo vuole far vedere in questi giorni. Questo è la vera identità di Gesù. Lui è la luce. È il triunfo della luce. È questo cammino catecumenale, questo cammino che facevano i primi cristiani per andare verso il battesimo. E questa è l'unzione, il regale che parla alla prima lettura. Questo cieco diventa modello dell'itinerario di fede di un uomo che cerca Cristo. È questo che ci vuole donare il Signore. Riconosciamo che Gesù è la luce della nostra vita che piano piano sta sputando per terra, sta facendo del fango con la saliva sua che è la sua divinità e mette nei nostri occhi questo fango che è la nuova creazione. Sapete che si usa anche questo nella creazione dell'uomo. Dio è fatto presso dalla terra, fatto di terra e questo è la nuova natura, la nuova creazione che Cristo vuole darci a tutti noi. È una nuova visione, un nuovo modo di vedere le cose, di guardare questo mondo, di vivere in questo mondo. Bisogna riconoscere Gesù come l'inviato, il vero inviato, l'unico inviato e così rispondere alla sua chiamata, al suo desiderio. Cioè qual è questo che tu ti devi lavare? Ecco, l'invito di Gesù a lavarsi, ti mette questo fango e ti dice vai a lavarti alla piscina di Siloe che significa appunto l'inviato. E questo è il cammino verso il battessimo. Tanti di noi dobbiamo tornare al nostro battessimo, dobbiamo scoprire il nostro battessimo che significa essere battessato, cosa significa essere cristiano. Bene, fratelli, è questo l'invito che il Signore ci fa questa domenica. Posso dire tante cose ma penso che questo è il centro, il percorso che fa il cieco è bellissimo. Sapete perché? Perché lui riconosce, la prima cosa che riconosce è che lui è un uomo. dice chi è che ti ha guarito e lui dice è un uomo. Questo uomo si chiama Gesù. Si chiama Gesù e questa è la prima cosa. Lui si chiama Gesù, riconosce l'umanità di Gesù ma questo non basta non basta perché poi dirà è un profeta sì non è molto preciso questo il profeta ha qualche cosa di ulteriore cioè inizia a riconoscere piano piano chi è Gesù pure noi facciamo questo pure noi dobbiamo fare questo fratelli dobbiamo riconoscere chi è Gesù per noi e alla fine dire con lui tu sei tu sei il Signore credo Signore tu sei il Signore tu mi hai guarito tu mi hai guarito sei tu che mi hai guarito e questo è il motivo perché perché io ero cieco e questo è il motivo e questo è il motivo anche della sofferenza lo diceva già Papa Giovanni Paolo II il vero senso della sofferenza il partecipare a quello che manca la passione di Cristo quello che resta la passione di Cristo partecipare a questa missione della salvezza di tutti gli uomini proclamare a tutta la tutta questa generazione che Cristo è il Signore e che lui è la luce di questo mondo che non siamo come i farisei che non sanno da dove viene che pensano solo alla legge dicono questo uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato perché ha guarito perché ha fatto del fango il sabato possiamo vivere anche il nostro cristianessimo così guardando solo la legge non è possibile che un poveraccio possa realizzare opere di Dio si possono manifestare in lui in un poveraccio in un pecatore le opere di Dio restiamo fuori oppure ci vergogniamo di questa opera di Dio ci vergogniamo di questa vediamo la malattia come una maledizione così lo hanno visto i genitori che vengono domandati su questo fatto della guarigione del suo figlio e loro dicono chiedetelo a lui all'età parlerà lui di sé perché dice il Vangelo avevano paura dei giudei quanti di noi abbiamo paura di dare testimonio di rendere testimonio di quello che ha fatto il Signore e ciò che ha fatto il Signore per noi quanti di noi ci vergogniamo di dire la verità quanti di noi abbiamo paura vergogna eccetera di dire sono di una famiglia cristiana questo ha fatto il Signore per noi ha provvisto ho visto risuscitare i morti perché io era morto e adesso vivo come dirà questo cieco io ero cieco e adesso vedo e questa è la Pasqua fratelli questa è la Pasqua questa è la Pasqua perciò il Signore ci prepara per la Pasqua coraggio fratelli chiediamo al Signore il dono della fede chiediamo al Signore di non essere autosufficienti come quelli che pensano che vedono che non hanno bisogno di questa luce chiediamo al Signore la luce del battesimo la luce che ci fa capire qual è la nostra identità qual è la nostra missione di far presente di far sapere a tutto il mondo che prima eravamo ciechi peccatori morti schiavi e adesso per il suo amore per la sua misericordia lui ha spudato per terra che questa è la predicazione che questi sono i sacramenti lui ha mischiato la sua divinità con la nostra povertà e siamo salvati e perciò possiamo dire credo Signore e ci postriamo dinanzi a Lui in questa domenica fratelli carissimi coraggio a tutti forza restate a casa e il Signore vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti